Salve, sono Mario Miconi, il presidente di un'associazione sportiva direttantistica, più precisamente di una polisportiva in quanto siamo affiliati a più federazioni sportive nazionali ed anche ad enti di promozione sportiva. Mi rivolgo oggi a Giovanni Malagò e ad Andrea Abodi perché in questo momento storico tutti ammiriamo i nostri campioni italiani che vincono medaglie e volevo far presente che questi campioni italiani che vincono medaglie non vengono solo e soltanto dai corpi militari, magari sono arrivati dai corpi militari tramite le associazioni sportive direttantistiche che in questo momento soffrono, stanno soffrendo molto queste associazioni perché siamo in una situazione di asfissia totale per i grandi compiti burocratici che ci sono stati assegnati. Io non so se chi si è messo ieri all'aspivania a decidere come dobbiamo noi gestire le nostre associazioni e a tutte le cose a cui dobbiamo ottemperare ha mai fatto il dirigente o il presidente di un'associazione sportiva direttantistica. Ci sono tantissime di quelle normative che ci creano problemi e dovremmo praticamente trasformarci in aziende dove poter tenere dentro gli uffici impiegati, avere un commercialista, un direttore sportivo, avere una struttura che non è più quella dell'associazione sportiva direttantistica che è innata tanti anni fa solo per propagandare lo sport a livello dilettantistico. Adesso la burocrazia è diventata quasi inaffrontabile. Ultimamente anche la safeguarding policy, i regolamenti interni, atti costitutivi e statuti da rivedere e da adeguare, certificati dei carichi pendenti per i nostri tecnici e i nostri dirigenti, tesseramenti di ogni tipo che costano tantissimi soldi, ovviamente le affiliazioni alle federazioni sportive nazionali, è il modello EAS, la fatturazione elettronica, verbali per l'ammissione dei soci, certificazione medica di tutti gli iscritti, poi c'è il volontario sportivo, lo sportivo dilettante, avere i difebbrile datori sempre dietro per ogni allenamento, corsi BLSD per i tecnici che costano e pagano le associazioni sportive dilettantiste. Ma queste associazioni dove li prendono tutti questi soldi? Quando invece ci scontriamo con attività diverse dalle nostre, che sono quelle di base che fanno proselitismo sportivo, palestre con 500-600 iscritti che sono associazioni sportive dilettantistiche, centri sportivi che hanno campi di calcio, calciotto, calcetto, bocciodromi, piscine, tutte ASD. Ma vogliamo fare un distinguo tra quelle associazioni vere che fanno attività sportiva, che partecipano a campionati regionali, interregionali, nazionali, magari portano gli atleti a livello europeo e mondiale, eppure agli olimpiadi e quelli invece che sfruttano il mondo dell'ASD. Ci dovete aiutare, dovete dividere queste due tipologie di attività. Noi abbiamo bisogno di aiuto. Ad esempio, ridateci tutta l'IVA che noi spendiamo per mantenere le nostre associazioni e per fare l'attività istituzionale. Non esistono solo i corti militari che portano atleti agli olimpiadi. Ci siamo anche noi, le piccole ASD, quelle che hanno 40-50 iscritti e che magari nei 40-50 iscritti hanno i campioni europei e mondiali. Io spero che il dottor Malagò e il dottor Abbodi si uniscano e creino un qualcosa di agevole per farci andare avanti e per non farci soffocare in tutto questo labirinto burocratico. Grazie. Grazie. Grazie.